benvenuta ciurmazza sul canale del tenente oggi il video lo inizia per una svappata di solito lo finisco oggi lo inizia per una svappata allora oggi si parla di coin master che è coin master ma no di questi cittini qua di davvero quel master faiato un signore io non lo sapevo era fuggire da questa cosa da tanti commenti comunque oggi si parla di un atomizzatore si chiama rei dal gatto coin master allora signore andiamoci a vedere velocemente il nostro pacchettino sotto abbiamo quel master davanti molto semplicemente l'atom fotografato qua sul lato sinistro la scritta rei qua rei sopra quel master andiamo a vedere velocemente dietro le specifiche del prodotto futures velocity style deck poi abbiamo un design dell'ingresso d'aria trappezidale un funnel shape design daring drip tip quindi abbiamo un drip tip praticamente che ha scavato dentro con praticamente un design a troncoccono poi abbiamo un top fill design a releasing un dual adjustable airflow control quindi le due classiche asolette per la regolazione dell'ingresso aria il peak insulator che praticamente l'isolatore del pin il gold plated bottom pin che praticamente il nostro classico pin placato oro 300 510 scusate il 304 stelle base e quindi il corpo principale dell'atom e diciamo il deck sono realizzati in acciaio inossidabile 304 le specifiche vediamo un 24 mm di diametro per quanto riguarda il glass tank e 24.2 mm di diametro per quanto riguarda il deck quindi una leggerissima proprio trascurabile sbordatura tra tank e deck 34 mm è l'altezza non inclusa non inclusiva del drip tip e del pin 510 la capacità signori del 2 ml il peso è di 50 grammi il contenuto qua del package abbiamo un rta un ex driver che praticamente è una chiave a brugola un bustina di cottone un tè anche di ricambio due clepton coil uno user manual un extra screw anzi scusate 4 extra screw che sarebbero 4 grani di ricambio per le torrette e 6 o-ring di ricambio qua sotto abbiamo i punti di contatto e il sito internet della casa produttrice qua marchiatura CE marchiatura ROHS riciclo materiale smaltimento rifiuti made in Cina qua lo scratch and check e il barcode per la verifica dell'autenticità del prodotto andiamo a vedere l'interno signori allora facciamo scivolare il nostro questo lo mettiamo qua così ce l'abbiamo sempre a vista non ci dimentichiamo di cosa stiamo parlando allora qua abbiamo partiamo con i libricini il piccolo user manual qua abbiamo la ruota della fortuna con il master lotto si reverse for details e qui scratch and check to win a prize niente qua c'è da grattare lo scratch and check andare sul sito internet della casa produttrice e vedere se si ha vinto qualcosa qua abbiamo il nostro spare per spec con gli o-ring di ricambio le due clepton coil i quattro grani di ricambio e la chiavetta brugola per il serraggio e l'apertura delle torrette qua la nostra bustina con il cotone il nostro vetrino di ricambio va signori infine il nostro atom va bene è pure carino vediamo un po da vicino allora partiamo subito con la verifica delle varie specifiche che ci hanno fornito ok 52 grammi va bene ci sta contro i 50 segnalati i 24 mm ci stanno sul tank di 32 ci sta perfetto senza pinne senza dritti vi do delle altre misure aggiuntive qui siamo a 41 quindi abbiamo 9 mm di drip tip sporgenti ok e con il pin e tutto abbiamo 46 mm signori allora andiamo velocemente a smontare partiamo da sotto dal deck ok io già naturalmente ho testato il prodotto quindi se vedete qualche goccia di liquido ora andiamo a vederci un attimo il deck partiamo così vediamo qua sotto abbiamo innanzitutto questo bello ring che va poi abbattuta con la parte inferiore del glass tank e offre la tenuta del liquido abbiamo questi due torrete quindi un deck proprio in stile velocity puro con queste chiavine questi grani a brugola e devo dire che l'entrata per i pin delle coil sono abbastanza larghi quindi ben dimensionati possiamo mettere delle belle coil quindi senza nessun problema le aperture per l'ingresso d'aria sono ben dimensionate anche se quindi abbiamo comunque stiamo parlando di un atomizzatore per uso polmonare quindi per tiro polmonare vedremo poi che per la realizzazione delle nostre coil quindi in ambito rigenerazione andremo a posizionarle orizzontalmente facendo scendere i drappi di cottone in questi scassi realizzati proprio di fianco all'ingresso aria c'è una filettatura che andrà a fare presa sulla parte inferiore della campana e lascerà poi questa differenza di altezza proprio per permettere al liquido di entrare e bagnare i drappi di cottone che sono fatti scendere dalla coil abbiamo delle lavorazioni signori veramente agricole quindi la qualità della lavorazione per la componentistica è veramente pessima signori cioè io sto vedendo segni di macchinari le filettature oddio non sono nemmeno male se non che avvittando la campana ho sentito a volte che facevo fatica un attimo ad ingranare il passo però insomma dopo uno o due tentativi si ingrana abbastanza velocemente l'interno fortunatamente delle asole rimane molto più liscio molto più bel lavorato rispetto alle parti esterne questo qui signori è un atomo che una volta che lo dovete lavare cioè se non avete una lavatrice d'ultrasuoni veramente lo dovete lasciare due tre giorni dentro l'acqua bicarbonato e aceto perché sennò rimane tutto qua l'interno del camino e l'interno della campana a differenza del deck devo dire che qua la qualità della lavorazione sale un attimino questa è la filettatura di cui vi parlavo prima e tutto scorre via tranquillo andiamo ad aprire un attimo abbiamo l'apertura del top cap a vite quindi abbiamo anche qui un o-ring dedicato alla tenuta del liquido come lo abbiamo poi anche sotto per andare a tenere liquido tra il camino e il glass tank allora abbiamo queste due enormi asole per il refill sulla parte superiore è questo ulteriore o-ring più piccolo per la tenuta liquido nel passaggio da camino a drip tip quindi io devo dire avendolo usato non ho mai notato del leakage oppure delle perdite da qualsiasi parte per quello signori veramente è un ottimo oggetto non perdo una goccia andando avanti drip tip ecco questo è il design di cui si parlava nelle futures all'esterno del package vediamo che c'è questa svasatura che va a ridurre gradualmente fino a circa metà dell'altezza del drip tip la sua larghezza quindi il suo spessore allora andiamo a rimontare un attimo qua il deck vediamo sotto abbiamo la parte inferiore color oro andiamo a leggere qua abbiamo Ray con il logo di Callmaster qua marchiatura CE nostro pin 510 placcato oro ha anche una vite quindi un taglio per essere smontato e sostituito e l'isolatore per la polarità positiva poi abbiamo marcatura CE smaltimento rifiuti design e manufactured by Callmaster quindi va bene andiamoci a vedere una velocissima rigenerazione signori e poi al nostro vape test e le quattro chiacchiere insieme grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti il nostro atom su una box eccola qua e andiamo a fare subito un refill montiamo il nostro upper cap a vite vediamo le grandissime asole molto comode e andiamo giù di liquido riavvitiamo tutto signori e vi rimando subitaneamente al nostro web test e a quattro chiacchiere insieme vapore come se non ci fossero mai allora signori l'oggetto non solo dove partire perché sembra è un oggetto molto semplice un atomizzatore veramente lo dice lo stesso prezzo che insomma è ridicolo perché un atomizzatore da 15 euro quindi un rta un rdta con da 24 mm esteticamente anche valido perché c'è questa lucidatura nera insieme a questi particolari oro qua con questo bordino oro che c'è sotto è anche piacevole alla vista il bel logo coin master la scritta una parte su sulla campana a me piace onestamente e adesso lo stavo svappando a 45 watt la resistenza a 0,2 con le asole dell'aria completamente aperte proviamo a chiuderne circa un terzo un quarto a che dirvi allora la resa aromatica c'è senza ombre dubbio non è un atomizzatore che che non ha resa oppure che non fa insomma assaporare il nostro aroma nel dovuto modo naturalmente non è paragonabile a qualche atomizzatore di livello un po più alto che dirvi è molto comodo è leggero è ben adattabile un po a tutte le mod tranne a quelle con pin fesso perché abbiamo visto insomma che ha un pin veramente molto sporgente a scapito della lavorazione sulle torrete che è veramente l'abbiamo vista signore cosa da dimenticare c'è fortuna che non si vede quella lavorazione dall'esterno perché una cosa raccappicciante però sono riusciti bene a dimensionare la campana quindi a renderla abbastanza vicina alle torrette con una curvatura molto stretta che porta al camino e quindi questo insomma ne favorisce ne favorisce la resa aromatica ma pure ne fa funziona molto bene la ricezione del liquido tramite il cottura è buona perché vedo che ad ogni svappata si creano bollicini dappertutto quindi il liquido sale bene l'aria pure sale ottimamente è un buon atom cioè costa veramente una stupidaggine il suo sporco lavoro veramente in maniera molto egregia che dirvi io a questo punto ve lo consiglio perché c'è al 24 millimetri costa niente è carino si rompe che te ne frega cioè quindi c'erano alla fine lo butti e prende un altro basta basta qua io ragazzi faccio l'ultima svappata wow funziona bene si sente l'aroma è perfetto cioè non perde non perde ragazzi non perde non perde una voce quindi cioè a sto punto la mia valutazione è seriamente positivo perché c'è un rapporto qualità prezzo stratosferico è carino funziona bene si sente l'aroma ciao l'ultima svappata ci siamo detti tutto è stato un piacere ci vediamo sempre qua sul canale del tenente alla prossima review spero che il video vi sia piaciuto non dimenticatevi di mettere un like di iscrivervi al canale azionare la campanella che mi avvisa ogni volta che lascia un nuovo video buon momento marinali ci vediamo alla prossima ciao